Ciao bimbi, oggi leggeremo la favola dell'omino di pan di zenzero. Tratto dal libro Le favole e le fiabe più belle per i più piccini. G e D edizioni. Un giorno di tanto, tanto tempo fa, un'anziana signora decise di cuocere un dolce di pan di zenzero a forma di omino. Usò dei rivers per fare gli occhi e dello zucchero per fare il panciotto. Mise poi l'omino di pan di zenzero a cuocere nel forno e quando fu pronto udì una vocina a gridare Fatemi uscire, aiuto, fatemi uscire! Incuriosita la donna aprì il forno e subito saltò fuori l'omino che scappò dritto fuori dalla porta. La vecchia signora lo rincorse gridando Fermati piccolo omino, fermati omino di pan di zenzero! E lui rispose Corri, corri più che puoi, tanto non riuscirai a prendermi mai! Io sono l'omino di pan di zenzero! L'omino incontrò una mucca che gli disse Tu devi essere ben più gustoso dell'erba! Ma ancora l'omino riuscì a fuggire, quando ben presto incontrò un cavallo. Il cavallo gli disse Sembri molto buono da mangiare! Ma nemmeno lui riuscì a fermare l'omino. Il piccolo omino di pan di zenzero disse orgoglioso Nessuno riuscirà a prendermi, io sono il più veloce di tutti! Poi incontrò una volpe che gli disse Fermati omino, fermati, vorrei parlarti. L'omino continuò a correre finché raggiunse un fiume, ma non sapeva come attraversarlo. La volpe allora disse Salta sul mio naso e ti porterò dall'altra parte del fiume. L'omino contento si lasciò trasportare dalla volpe, ma quando raggiunse l'altra sponda fece un balzo e scappò via a gambe levate e la volpe rimase senza aver mangiato nemmeno Mola e l'omino di pan di zenzero. Ciao bimbi, grazie per l'ascolto e ricordatevi di iscrivervi al canale. Alla prossima storia!